La caratteristica principale delle opere di Antonella Staltari esposte oggi qui fino al 24 dicembre presso l'associazione culturale Il Punto? La principale è l'originalità. Conosco Antonella Staltari da 20 anni e la prima impressione che mi ha dato è quella di avere delle idee chiare in un mondo che è parallelo a quella dell'arte tradizionale, quindi assolutamente in linea con quella che è l'attuale arte contemporanea. Ecco, per quanto riguarda queste mongolfiere erotiche, in che cosa consiste in particolare l'originalità che caratterizza l'artista? È il collegamento tra erotismo e cultura, cultura generale e soprattutto cultura letteraria. E' cultura letteraria che spazia da quello che è l'erotismo nell'antico Egizio, nella Grecia, nel periodo romano, nel periodo medievale e soprattutto 700-800 con una capatina nel mondo moderno e soprattutto nella geografia dell'erotismo moderno che è Parigi, il mondo delle Bluebell, il mondo del Moulin Rouge e delle Showgirl che viaggiano tranquillamente anche a Torino. Eros e arte sono da sempre due mondi strettamente connessi, in questo caso con le mongolfiere erotiche di Antonella Staltari siamo davanti a un bellissimo esempio. Sì, sempre connesse e direi che sono connesse dall'Eden, e hanno un rapporto, il rapporto tra eros e arte è un rapporto nei secoli, nei millenni felicissimo, che di tanto in tanto incontra degli inciampi, delle incompressioni e soprattutto delle stupidità, ma la mongolfiera simboleggia una leggerezza che è tipica dell'eros, o c'è questa leggerezza o non c'è l'eros e questo è ciò che salva, nobilita e indica un futuro a questa sensibilità.